Too Hot To Handle è tornato! Agitiamo questa barca! Una reggia del sesso! Questo bel fusto arrapato pensa di partecipare a un programma molto diverso! Ci siamo! Fate entrare le ragazze! Questo perché ogni stagione... Cominciamo! ...ricorriamo a misure estreme per non farci scoprire! Benvenuti a Partis in Paradise! Sull'isola del piacere! Benvenuti alla prima prova di Wild Love! Provocando delle reazioni molto mature... Corraggio la mia amichetta scarpita! ...all'ingresso in scena di Lana! No! 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 Viene da vomitare anche a voi? Dovrete astenervi... Niente erezioni mattutine! ...dalle pratiche sessuali... Per chi? ...per l'intera durata del soggiorno! Siamo all'inferno! Posso chiamare mia mamma? Voglio tornare a casa! Megatrix, non watch me move! Questa volta, il nostro programma inesistente avrà luogo su un bellissimo yacht! Abbiamo una barca da paura! Wow! Questi diavoletti arrapati credono di salpare per una vacanza di divertimento ai Caraibi! Quello che accade in acque internazionali... ...resta in acque internazionali! Ma in realtà... ...la vera protagonista ha la forma di un cono! Andiamo, andiamo, si parte! Sono nata pronta! Questo mi farà... ...perdere... ...la testa! Iscriviti al nostro canale!